E' stata ufficialmente presentata sabato scorso durante l'assemblea ordinaria dei soci la nuova campagna sociale promossa da CTV, il centro di territoriale volontariato, finalizzata alla ricerca di volontari e volontarie per gli oltre 900 enti del terzo settore presenti sul territorio biellese e vercellese. Un'iniziativa che segue la precedente realizzata nel 2019 e si rivolge a tutte le persone interessate a dedicare qualche ora del proprio tempo in attività di volontariato nell'ambito o negli ambiti a cui ci si sente più affini. Sappiamo, commenta Andrea Pistono, presidente di CTV, che le organizzazioni di volontariato hanno bisogno e sono alla ricerca di nuovi volontari da coinvolgere nelle loro attività. E' un bisogno fisiologico che si ripresenta più volte nel corso del tempo. E con questa nuova campagna vogliamo comunicare in maniera semplice ma chiara due aspetti. Il primo è che gli ambiti in cui fare volontariato, le iniziative e gli eventi proposti sono moltissimi, con un impegno richiesto che può essere anche di pochissime ore alla settimana, addirittura una tantum, in base alla disponibilità delle persone. La campagna proseguirà sino ai primi mesi del 2024 nelle province di Biella e di Vercelli.